Allora, il piano è questo. Ci caleremo nelle fogne accanto all'auditorium. Praticamente non c'è nessun sistema di sorveglianza, non ci sono cani, non c'è nessun sistema di allarme, l'ho già controllato. C'è già Arturo col furgone lì appostato che sta studiando tutto quanto. A quel punto, passiamo da qua, arriviamo alla stanza dei trofei, pugo nella parete ed è fatta. Che ne dite? Io spero di non aver capito bene, sinceramente. Tu le vuoi ruban' Davide da Nadello? Grazie, mi hai detto che conosco la stanza dove li custodiscono. Eh, un attimo, così dopo l'Oscar pure il Davide sarà nostro, e dai. No, scusa, quale Oscar? Eh, questo. Ma c'è sta scritto la grande bellezza. Ma che gli hai fregato? Vabbè, ma con un po' di pasta abrasiva ti lanciavano. No. 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 No